Buongiorno, sono Laura Scarano, sono un'insegnante di scuola primaria e oggi sono qui per condividere con voi alcune idee sugli strumenti per la valutazione formativa. Utilizzeremo come strumenti i quaderni delle esperienze e le guide per la valutazione in allegato ai vari volumi adozionali dei raggiunti, ma di cosa parliamo fondamentalmente oggi? Affrontiamo una riflessione sulla valutazione per l'apprendimento e la sua differenza rispetto alla valutazione formativa e cerchiamo di capire quale legame si attua tra la progettazione e la valutazione quest'ottica e cercheremo appunto di individuare e utilizzare gli strumenti della valutazione e facendo anche qualche esempio pratico. Intanto la valutazione in questi ultimi anni, soprattutto nella scuola primaria, in conseguenza dell'ordinanza ministeriale 172 del dicembre 2020, la valutazione è tornata un po' al centro dell'attenzione in quanto appunto questa ordinanza ha un po' traumatizzato, sconvolto un po' i docenti, sia per il tempismo della sua proposta, ma anche per le modalità di accompagnamento alla formazione rispetto a queste nuove linee guida e queste indicazioni. D'altra parte il contesto sociale, quindi la situazione pandemica, ha effettivamente posto i docenti in situazioni completamente nuove, per cui si è dovuto un po' ripensare le modalità sia didattiche, vere e proprie, ma anche si è dovuto riflettere su nuove modalità di valutazione e di verifica degli apprendimenti, soprattutto nelle situazioni non in presenza. Non so, ricordiamo per esempio le mamme nascoste sotto le scrivanie, suggerire i ragazzi della secondaria con le pareti tappezzate di post-it per rispondere positivamente alle verifiche. Resta il fatto che comunque la valutazione è sempre stato e sempre sarà un tema caldo per la scuola, perché è il momento in cui si accendono i riflettori sui processi di insegnamento e apprendimento e si chiede conto dell'efficacia o meno di quanto gli insegnanti hanno progettato e proposto da una parte e di quanto, d'altra parte, gli alunni abbiano invece appreso. Quindi essendo un elemento così importante, diciamo che si colloca in una prospettiva anche teorica e pedagogica di riferimento generale, che sia nell'ordinanza ministeriale numero 172, ma ancora prima nelle indicazioni nazionali, viene individuata nella prospettiva pedagogica appunto della valutazione per l'apprendimento, che è una, diciamo, visione educativa nella quale la valutazione ha la priorità di promuovere l'apprendimento degli studenti. Questa è appunto, diciamo, la cornice pedagogica dentro cui, in modo particolare, la valutazione assume una funzione formativa. laddove però la funzione formativa è tale per la valutazione, a prescindere poi dalla cornice teorica di riferimento. Nel senso che la valutazione ha una funzione formativa nel momento in cui questa va a osservare, a individuare le evidenze sulle performance degli studenti e le interpreta e le usa per, come dire, rimodulare, riprogettare l'azione, nel nostro caso didattica, in una funzione migliorativa. Di solito essa è complementare alla funzione poi sommativa della valutazione, che è quella di, diciamo, tirare le somme rispetto a tutte le performance degli studenti. Quindi, da una parte abbiamo questa cornice di riferimento che è, appunto, la valutazione per l'apprendimento, dentro alla quale assume una valenza prioritaria, ma non esclusiva, la funzione formativa della valutazione. Che cosa intendiamo, quindi, quando nelle linee guida si parla di valutazione formativa? Mettiamo insieme un po' questi due concetti, che è una cosa che già veniva individuata nel 1999 da Broadfoot, il quale aveva indicato alcune caratteristiche particolari e specifiche della valutazione formativa. Intanto, la presenza di un feedback per gli studenti, proprio per dare l'indicazione verso il miglioramento, che naturalmente questo necessita anche di un coinvolgimento attivo degli alunni nei processi di apprendimento, proprio per sostenere sia la motivazione, ma anche la consapevolezza. D'altra parte, la valutazione formativa, proprio perché, diciamo, presuppone che poi ci sia anche un adeguamento dell'azione e dell'insegnamento in funzione degli esiti e dei risultati dell'apprendimento. In questo risulta chiaramente fondamentale riconoscere come sia la motivazione che l'autostima siano influenzati e condizionati dalla valutazione che si fa sugli esiti e sui risultati, e naturalmente questi sono poi fattori che influenzano chiaramente tutto il successivo processo di apprendimento. Quindi è importante, un'altra delle caratteristiche è quella della possibilità di far autovalutare gli alunni, proprio perché ci si muove nella prospettiva del miglioramento e anche della autoconsapevolezza dei propri processi di apprendimento. Quindi la funzione formativa del processo di valutazione, diciamo, che si esplicita con due prospettive. La prospettiva dell'insegnante, per il quale il momento di valutazione è uno strumento che serve a monitorare, modificare e rimodulare la propria azione didattica, mentre per lo studente è uno strumento che migliora il proprio percorso di apprendimento, proprio perché gli fa prendere consapevolezza del proprio stile di apprendimento, del proprio processo apprenditivo, grazie ai feedback che riceve dall'insegnante. Quindi è per questo che appunto anche nelle linee guida cogliamo un senso di valutazione formativa come analisi, ricostruzione e informazione del processo didattico nel suo intero svolgimento. Ed è proprio questo che poi permette una regolazione positiva e costante dell'azione didattica in funzione dei risultati da raggiungere. In questa prospettiva non possiamo considerare più la valutazione come la fotografia di un singolo momento nell'apprendimento, nel processo di apprendimento, ma dobbiamo considerarla invece un po' come il film, il video che racconta lo svolgimento del processo intero. Ecco, ma come tutta questa faccenda diciamo teorica si colloca poi concretamente nella realizzazione, nella costruzione dell'azione didattica quotidiana. Diciamo che l'elemento fondamentale è la progettazione. È al momento della progettazione che è necessario unire l'aspetto del progettuale generale con la progettazione anche dei momenti valutativi. Perché? Perché il momento della progettazione è il momento in cui si vanno a identificare gli esiti desiderati. Quindi è il momento in cui si definiscono gli obiettivi da raggiungere, da far conseguire agli alunni. Nello stesso momento in cui però noi definiamo gli obiettivi, definiamo anche come andremo a osservare, cioè quali saranno le evidenze, gli indicatori che ci diranno come e quanto l'alunno ha conseguito, ha preso di questi obiettivi. Quindi è necessario, due sono gli elementi fondamentali, definire in modo chiaro i risultati attesi, che sono appunto gli obiettivi di apprendimento, e definire anche in modo chiaro le metodologie operative che devono chiaramente essere pertinenti rispetto agli obiettivi proposti. Ecco, quindi il fulcro diventano gli obiettivi di apprendimento che sono centrali sia per la progettazione, ma anche per sostenere poi un momento valutativo che sia effettivamente significativo. Gli obiettivi di apprendimento sono definiti a partire dalle competenze chiave europee che sono già, come dire, tradotte nei profili di uscita delle indicazioni nazionali. Da queste poi sappiamo che ogni istituto definisce il proprio curriculo adeguando i propri traguardi, scegliendo i propri traguardi sia per quanto riguarda le competenze più larghe di cittadinanza, ma anche rispetto poi alle singole discipline. Il curriculum d'istituto definisce quindi i traguardi delle discipline e gli obiettivi generali. L'azione poi quotidiana dell'insegnante è quello di rendere operativo, adeguare gli obiettivi generali al proprio contesto classe. Il momento progettuale diventa importante perché nel momento in cui io definisco gli obiettivi in modo operativo, creo anche delle consegne valutative, in quanto l'obiettivo espresso in forma operativa mi indica la meta del processo didattico, ma allo stesso tempo mi fa capire con quale comportamento io potrò osservare l'esito del processo che lo studente mette in atto per apprendere, per conseguire l'obiettivo. Per fare questo, come indica il professor Trinchero, facciamo in modo che l'obiettivo sia espresso attraverso l'indicazione di una azione in cui lo studente agisca tramite un contenuto. Un esempio è questo che riguarda la disciplina di scienze per una classe prima in cui l'azione è quella di descrivere gli oggetti attraverso quale contenuto? Il contenuto è quello delle caratteristiche individuate attraverso i cinque sensi. Quindi questo che è un obiettivo diciamo didattico, allo stesso tempo diventa una consegna valutativa, perché come farò a osservare se il bambino ha conseguito o meno questa capacità, questa abilità? Semplicemente mettendolo in una situazione in cui possa agire in questa modalità. Le guide per la valutazione che abbiamo in allegato ai diversi volumi ci supportano proprio in questo tipo di percorso progettuale. Ci presentano già il percorso a partire dai traguardi delle indicazioni nazionali dai quali possiamo dessumere nel nostro curriculum di istituto quali finalità possono essere individuate e abbiamo già una serie di obiettivi che sono già molto operativi proprio perché come si può vedere in questo esempio abbiamo per la maggior parte l'azione che in questo caso è per esempio leggere le fonti storiche messa in relazione con un contenuto specifico che in questo caso, essendo una scheda di storia, fa riferimento agli aspetti di una civiltà. Quindi qui abbiamo già un primo strumento che ci mette un percorso un po' già segnato. Ma questi strumenti poi come andiamo effettivamente a utilizzarli nella pratica quotidiana? Se il percorso è quello di partire dall'individuazione o dalla definizione di un obiettivo che è uguale per tutti i ragazzi, quindi noi costruiamo diciamo una strada che però ogni ragazzo, ogni studente andrà a viversi in modo personale. Quindi c'è chi corre, chi cammina, chi è più veloce, chi è più lento, chi ha bisogno di utilizzare qualche strumento, chi lo fa invece molto più fisicamente. Quindi la nostra progettazione, una volta individuato e definito l'obiettivo, deve anche considerare tutte quelle metodologie operative, inclusive, che attraverso le quali ogni studente possa trovare il suo modo di affrontare il percorso didattico. E allo stesso tempo quindi dobbiamo già prevedere gli strumenti valutativi che non possono che non essere connessi, collegati alle metodologie operative ma anche agli stili di apprendimento degli studenti. Quindi come si diceva precedentemente, gli obiettivi di apprendimento se operazionalizzati diventano proprio delle consegne valutative e possiamo già vedere come negli obiettivi predisposti nelle guide di valutazione troviamo proprio una serie di obiettivi che sono anche delle consegne valutative che ci permetteranno proprio di andare poi a creare, ad avere una serie di strumenti per recuperare le informazioni che ci permetteranno di raccontare poi il processo di apprendimento. E quali possono essere questi strumenti? Intanto abbiamo diversi strumenti di osservazione che fanno parte ormai della pratica dei docenti, checklist, osservazioni personali, sistematiche o meno, diarie di bordo e tutta quella raccolta di informazioni estemporanea che un insegnante riesce a svolgere durante il suo lavoro. Per esempio le trascrizioni delle conversazioni di gruppo o individuali con i ragazzi, la raccolta e l'analisi dei prodotti degli alunni con magari i commenti che può esplicitare l'insegnante o che può fare anche ogni alunno sul proprio lavoro. Le tante prove di verifica che si svolgono comunque per fare il punto nelle varie situazioni del percorso e anche le autovalutazioni che sono un elemento fondamentale per dare un po' l'indicazione, per dare un po' l'idea della prospettiva di miglioramento e anche per sostenere il processo di sempre maggiore autoconsapevolezza da parte degli alunni rispetto al proprio processo di apprendimento. Tutti questi strumenti a cosa ci servono? Ci servono a raccogliere tutte quelle informazioni che andranno a documentare quella che è la valutazione in itinere. Questa è proprio l'idea del racconto del processo di apprendimento. Un racconto che non può essere né monotematico né svolto solo con alcuni strumenti, sempre gli stessi, ma proprio perché si deve riferire ad una pluralità di stili di apprendimento, di situazioni, va appunto documentata con modalità diverse e anche con una certa complessità di prove. Vediamo adesso alcuni esempi di prove in cui è possibile anche solo con una prova, un compito, riuscire ad avere diversi tipi di informazioni sul processo di apprendimento. Riprendo l'obiettivo precedente, questo è sempre relativo a un obiettivo di apprendimento di scienze per la classe prima che si può ritrovare nei quaderni di esperienze e della valutazione. L'obiettivo è questo, descrivere oggetti in base alle caratteristiche percepite con i cinque sensi. In questa attività i bambini sono chiamati a costruire un dado dove sono simboleggiati appunto i cinque sensi e poi devono completare una tabella proprio per descrivere secondo la caratteristica estratta con il dado l'oggetto indicato. Questo tipo di attività mette il bambino in una situazione complessa che però intanto è una situazione ludica, laboratoriale che volendo può essere svolta individualmente ma anche in coppia o in piccolo gruppo. Questa attività inoltre permette non solo la semplice descrizione dell'oggetto in base a delle caratteristiche così semplicemente, ma richiede al bambino anche la capacità di selezionare la descrizione, la caratteristica definita, indicata. Quindi utilizzare anche poi un linguaggio più specifico selezionandolo tra tutte le esperienze svolte. Inoltre, elemento fondamentale che si ritrova in tutte le prove è quello dell'autovalutazione dove non è semplicemente indicato mi è piaciuto, non mi è piaciuto, è stato facile, è stato difficile ma la domanda punta proprio a rendere consapevole il bambino del tipo di attività che è svolto. Quindi in questo caso si prova a rendere consapevole il bambino sulla capacità di descrivere gli oggetti attraverso i cinque sensi. Chiaramente nelle prime classi la descrizione, l'autovalutazione avviene con frasi molto semplici, simboli molto leggeri proprio perché è un avvio a questo tipo di capacità che tra l'altro matura anche nel tempo. Una cosa interessante sono poi le rubriche che si trovano in allegato nelle guide di valutazione. Queste rubriche non ci servono tanto per individuare o definire il livello della prova in sé ma sono importanti perché possono essere utilizzate come uno strumento di osservazione del processo che il bambino mette in atto e quindi ci danno gli indicatori da utilizzare per poi valutare anche il livello in una fase successiva. D'altra parte possiamo anche utilizzare chiaramente modificando o comunque adattandolo con un linguaggio più semplice questa descrizione dei livelli può essere utilizzata come feedback da consegnare e comunicare ai bambini e alle famiglie perché in esso appunto ritroviamo gli indicatori che definiscono il processo svolto e avvenuto. Vi propongo un altro esempio che invece è per una classe quarta per la disciplina di storia. Anche in questo caso osserviamo l'obiettivo che è quello di raggruppare le informazioni in base ai temi in cui possono riferirsi. Anche in questo caso l'obiettivo è abbastanza operativo perché abbiamo appunto una azione ben definita che è quella di raggruppare le informazioni. Naturalmente qui il contenuto può variare in questo caso si riferisce al quadro di civiltà dei sumeri ma credo che sia abbastanza facile poi poterlo adattare anche ad altre civiltà. In che cosa consiste poi la prova? Consiste nella lettura di immagini che poi vanno posizionate nei riquadri giusti relativi agli indicatori del quadro di civiltà. Anche questa è una prova, un compito complesso che richiede la capacità di lettura e comprensione delle immagini e di selezione delle informazioni rispetto a degli indicatori dati. Anche questo tipo di prova può essere una prova che si può svolgere a livello individuale ma se volessimo renderla ancora più complessa per magari recuperare informazioni anche relative a capacità linguistiche più complesse come l'argomentazione e la mediazione sociale potrebbe essere svolta anche in coppia o in piccoli gruppi. Rispetto all'autovalutazione come si può vedere il livello di consapevolezza è un po' più elevato rispetto alle classi prime perché qui si chiede ai bambini di analizzarsi non solo sulla modalità ma anche sulle conoscenze quindi come ho svolto il lavoro cosa mi sembra di aver chiaro e come ho anche affrontato la prova con ansia con la paura di sbagliare se è stata una prova che mi ha annoiato che ho fatto volentieri con tranquillità da solo ecco qui ci permette questo tipo di riflessione permette di cogliere anche appunto il livello di consapevolezza che il bambino ha rispetto al suo modo di operare anche per questo tipo di prova abbiamo la griglia la rubrica che descrive i livelli relativi alla prova ma ripeto questi sono più degli strumenti che ci aiutano a osservare meglio il processo che il bambino mette in atto e può essere adattato alla costruzione del feedback al bambino tutto questo tipo di prove che si possono appunto proporre sia durante lo svolgimento di un percorso didattico ma anche alla fine dopo devono trovare a livello anche formale perché questa è la norma una definizione della valutazione intermedia e finale naturalmente la valutazione intermedia si riferisce alla prima frazione dell'anno scolastico quella finale all'ultima e la normativa con le nuove linee guida parla di un giudizio descrittivo che appunto dà l'idea dello svolgimento del processo di apprendimento del bambino fino a quel momento e il giudizio descrittivo non è altro che la sintesi delle informazioni che possiamo ricavare dalla documentazione della valutazione in itinere quindi di tutta quella pluralità di informazioni che siamo riusciti a raccogliere con i diversi strumenti che abbiamo utilizzato però abbiamo anche dei canali ben precisi per questo risultano importanti tutti i tipi di strumenti che possiamo che riusciamo ad utilizzare perché appunto il giudizio descrittivo ha degli indicatori ben precisi che sono per esempio il tipo di prove che il bambino sa affrontare con maggiore o minore facilità per questo dicevo prima possiamo sempre adattare adeguare le diverse prove per renderle più o meno complesse a seconda appunto della possibilità che ci dobbiamo dare anche come insegnanti di osservare il processo e lo stile del bambino proprio perché il tipo di prova poi determina anche il grado di mobilitazione delle risorse che il bambino riesce ad attivare nelle diverse situazioni e questo è un elemento fondamentale per capire il processo lo stile di apprendimento del bambino chiaramente poi c'è l'indicatore dell'autonomia e poi della continuità cioè di quanto è stabile l'esito di un certo tipo nelle diverse situazioni di apprendimento e diciamo che il compito della costruzione del giudizio descrittivo non è sempre così facile anche perché se da una parte dobbiamo sul documento di valutazione dobbiamo descrivere il percorso di apprendimento la valutazione formativa abbiamo visto ancora all'inizio che deve avere anche un risvolto sul percorso di insegnamento e quindi le nostre guide ci danno anche degli strumenti utili proprio in questa direzione su questi due versanti per quanto riguarda il percorso di apprendimento abbiamo la possibilità con questa griglia di osservazione e valutazione di avere il quadro generale in cui ogni alunno ha svolto il suo percorso in relazione all'obiettivo di apprendimento che andiamo ad indicare nel documento di valutazione quindi in questa scheda noi possiamo registrare i diversi tipi di prove secondo considerando anche i livelli diversi di rappresentazione ed espressione che il bambino ha messo in gioco per attivarsi nel processo di apprendimento e anche i diversi codici comunicativi utilizzati proprio perché abbiamo visto che dobbiamo comunque dare a ognuno la possibilità di mettersi in gioco secondo lo stile di apprendimento a lui più congeniale quindi avendo poi sott'occhio tutto tutte le informazioni necessarie è poi possibile quindi definire il giudizio descrittivo è uno strumento diciamo interessante proprio perché dà la possibilità di ordinare le informazioni per ogni singolo alunno e quindi ritorna a come dire a facilitare il punto di unione tra la progettazione intesa come identificazione degli esiti desiderati prescritti per tutti e invece la possibilità con questa abbiamo la possibilità con questa griglia di vedere invece l'esito del processo di apprendimento per ogni singolo alunno che poi possiamo appunto facilmente comunicare alle famiglie dicevo che quindi la valutazione però è formativa nel momento in cui oltre a dare la prospettiva di miglioramento con il feedback allo studente è anche un feedback per l'insegnante perché se l'obiettivo dell'insegnamento è comunque il successo formativo dello studente come insegnante devo avere anche un quadro generale della classe per poter analizzare e quindi regolare e quindi migliorare anche l'efficacia della mia azione didattica questa griglia per la valutazione della classe è un ulteriore strumento che abbiamo a disposizione per avere invece il quadro generale rispetto alla disciplina e poter quindi regolare monitorare regolare sempre nell'ottica di miglioramento dell'azione anche di insegnamento ecco concludo dicendo dando diciamo come indicazione per la valutazione questa idea che riprendo dalla professoressa Grion che della valutazione sostenibile questa idea che nasce dall'idea insomma più sociale economica dello sviluppo sostenibile per cui dobbiamo crescere e svilupparci soddisfacendo oggi i bisogni in modo da non compromettere diciamo il soddisfacimento dei bisogni in futuro nello stesso modo dobbiamo pensare ad una valutazione che sia sostenibile come un momento del processo educativo in cui si garantisca non solo la capacità di rispondere a quanto richiesto e deciso dagli altri a scuola ma bisognerebbe appunto sviluppare la capacità nei bambini negli studenti di saper fronteggiare adeguatamente quanto verrà richiesto a loro in futuro non solo nel percorso scolastico ma soprattutto fuori dalle mura scolastiche ecco io spero che con questa condivisione si trovino degli spunti poi per realizzare concretamente questo pensiero vi ringrazio per l'attenzione per l'attenzione